Ben ritrovati in questa seconda parte dello speciale di sentieri riflessivi dedicato al Guru Purnima 2023, dall'oscurità alla luce. Nella parte precedente, ostacolare la spiritualità ha il suo perché, abbiamo cercato di affrontare alcune delle classiche titubanze caratteristiche di coloro che sono indecisi sull'intraprendere un percorso spirituale. In questa seconda parte diamo per scontato che tali titubanze siano state positivamente superate e parleremo dell'importanza del Guru in riferimento a Karma e Dharma. Da qui il sottotitolo Il Guru, il condottiero che ci guida oltre il Karma e il Dharma. Per comprendere il significato di Karma e Dharma, per dargli la giusta ambientazione, a mio avviso dobbiamo preventivamente rispondere ad una domanda, una domanda che ci tocca tutti da vicino. Perché siamo nati in questo mondo? O se preferite, cosa facciamo qui? Per qualcuno è talmente ovvio perché siamo qui che non trova le parole per spiegarlo. Per altri, la domanda è talmente banale da non giustificare nemmeno un loro interessamento. Altri ancora, invece, abbostano una risposta più o meno convincente, ma quando si chiede loro di argomentarla, di approfondirla, prima terciversano, poi s'arrendono e cambiano discorso. Reazioni più che comprensibili sono gli effetti collaterali dell'argomentare e dell'approfondire. Argomentare e approfondire significa portare luce in quegli anfratti, in quei luoghi stretti, tortuosi e scoscesi di se stessi. In quei luoghi in cui i più desistono alla sola idea di provarci. Già questi atteggiamenti dovrebbero toglierci ogni dubbio in merito all'attenzione che diamo alla questione. Se vengono a meno l'argomentare e l'approfondire, significa che ci accontenteremo del probabile, del pressapoco, non del certo. Significa che vogliamo restare nei luoghi comuni, non conquistare la nostra essenza. Credere anche solo per un momento che siamo qui per via dei propri genitori è letteralmente forviante. Loro, consci o meno, ci hanno fornito unicamente l'occasione per giungere qui. Infatti, ci sono molte coppie che non riescono ad avere figli, nonostante i loro sforzi. Non dovremmo ignorare questo particolare per avvalorare la conclusione che siamo qui perché loro lo hanno voluto o per un loro errore. Non dovremmo deresponsabilizzarci così gratuitamente. Noi siamo qui per uno scopo ben preciso. Fingere di non conoscerlo, continuare ad ignorarlo o a disconoscerlo, non lo renderà inefficace, meno importante o inesistente. Al contrario, lascerà noi alla deriva senza una meta. Un detto dell'antica Grecia ammoniva «Se getti le tue perle in mare, non sarai il mare a diventare più ricco, ma tu più povero». Cosa mette in evidenza questo antico detto? Che a rimetterci è solamente chi non coglie le occasioni, chi le lascia cadere non valutandone le opportunità che rappresentano. Compreso che siamo qui per uno scopo ben preciso e non per un caso, ecco che siamo in grado di intuire il significato, di intravedere i concetti che racchiudono karma e dharma oltre alle parole convenzionali. Il termine dharma spesso viene tradotto come rettitudine, dovere, obbligo morale, ma anche come legge divina, ordine cosmico. Ogni cosa nella creazione ha il suo specifico dharma che ne dettaglia il dovere sia nella sua unicità che nelle sue relazioni. Il dharma del pianeta Terra è quello di assicurare la vita. Per assolvere questo dovere deve far sì che la luce del sole, con il suo calore, arrivi in tutta la sua superficie, in modo da permettere sia una sorta di pulsazione quotidiana, giorno e notte, che una di intensità, le stagioni. Quest'ultimo punto implica che il pianeta Terra debba relazionarsi con il sole, ovvero ruotare attorno ad esso seguendo un percorso elliptico nel quale dovrà variare la sua velocità per per non uscire dal percorso, per non nuocere alla vita che ospita. Per soddisfare questo dharma, il pianeta Terra deve agire, ovvero compiere delle azioni. Karma, appunto, significa azione. Ogni azione è sia madre che vincolo delle successive. Quindi, quando parliamo di karma, azioni, parliamo implicitamente anche della legge di causa ed effetto. Ogni azione crea una conseguenza, catene di causa-effetto come le tessere di un domino, e tutte alla fine si riassorbiranno nella causa che le ha portate in essere. In altre parole, tutte le azioni ritornano al mittente. Per questo si dice, tu le dimentichi, ma il karma non dimentica le tue azioni. Infatti, il karma non ragiona in termini di tempo. Questo è il motivo per cui oggi ci troviamo a scontare, sia a livello individuale che sociale, un karma, positivo o negativo, prodotto dalle azioni precedenti, le quali possono riferirsi a pochi istanti fa oppure a parecchie esistenze precedenti. Anche l'uomo ha il suo dharma. Ne ha uno personale, uno legato al suo ruolo nella società e uno in relazione all'intero universo. Infatti, un uomo sposato, in qualità di marito, ha un dharma nei confronti della moglie. Come padre ha un dharma nei confronti dei figli. In ambito lavorativo, ha un dharma nei confronti del proprio datore di lavoro o, se è un libero professionista, nei confronti dei suoi colleghi ed, eventualmente, nei confronti dei dipendenti nel caso ne avesse. Quello stesso uomo ha anche un dharma nei confronti della comunità in cui vive, della nazione e, ampliando la propria consapevolezza, nei confronti di tutto l'universo. È un atomo unico e irripetibile all'interno della creazione. Non occupa quel preciso posto inutilmente. Il suo ruolo ha un valore unico, incomparabile. La creazione non valuta l'importanza del ruolo di un suo elemento in termini di appariscenza. Non ha un ego da appagare e vivendolo. Quando l'uomo non segue il dharma riferito alla sua persona, compromette la sua armonia, si ammala. Quando non rispetta il dharma prescritto per la società di cui fa parte, viene a meno l'armonia di quella società, si ammala quella società. Quando una persona o una società trascura il proprio dharma per seguire le orme di un'altra persona o società che si allontana dal proprio dharma, ecco sorgere malcontenti, incomprensioni, tensioni, disordini, guerre. Quando l'uomo dimentica il suo dharma, le sue azioni, karma, diventano adarmiche, non più darmiche. Le sue preghiere o vengono a mancare oppure diventano sostanzialmente richieste. Non pregando per pregare, il risultato non cambia, poiché manca la fiducia nella propria essenza, nel guru, in Dio. Le vibrazioni che propaga nell'universo non ne aumentano la vibrazione. Sostanzialmente, quello che accade e giustifica la negazione di Dio è molto semplice. Occultando a se stessi che ci si sta allontanando dalla fonte, si è correttamente indotti a dedurre che la fonte non esiste e la prova che ne consegue è incontestabile. Infatti, scrutando a 360 gradi, non la si può vedere e tirando l'orecchio non si ode il fragore della sua cascata. Coloro che dopo tale conclusione non si chiedono chi abbia creato tutto quello che mediante i sensi percepiscono e che costituisce l'oggetto di studio della scienza, difficilmente avranno quell'onestà intellettuale e umiltà da spingerli ardentemente a cercare e seguire il guru. Ma per coloro che avendo compreso che la fonte non è più visibile né udibile perché si sono allontanati troppo e smarrendosi non sanno più come farvi ritorno, ecco che il guru darà tutto se stesso, adempierà senza riserve alla sua promessa «Fai un passo verso di me ed io ne farò cento verso di te». Prima di concludere questa seconda parte, un'immagine riepilogativa può offrire una migliore comprensione del concetto e relazione tra guru, karma e dharma. Guru, abbiamo detto, significa colui che dirada le tenebre dell'ignoranza. Dharma è la legge universale che tutti sono tenuti a rispettare. Karma è l'azione a cui nessuno può sottrarsi. L'uomo è come se dovesse camminare, azione, quindi karma, in perfetto equilibrio lungo un'asse, che in questa immagine rappresenta il dharma. Chi insegna all'uomo come mantenere l'equilibrio tra insidie e trappole al fine di superare con successo questo tragitto è il guru, che si trova oltre l'asse stessa. Cosa ci dice questa immagine? Ci dice che per raggiungere il guru, la nostra vera essenza, anche il karma va superato mediante azioni consapevoli e disinteressate, ovvero senza bramare i frutti delle proprie azioni, nemmeno in modo inconsapevole. Questo implica che anche l'inconsapevole, il subconscio, deve diventare consapevole. Solo allora si può realizzare l'unità nella molteplicità, ovvero che tutti nell'individualità sono raggi dello stesso sole e che risalendo il proprio raggio, il proprio sé, si realizza l'uno, il guru. E' per questo motivo che i testi sacri affermano che non c'è differenza fra i vari guru, ma solo una differente modalità operativa in relazione allo scopo. Va evidenziato che il guru non è importante per se stesso, bensì per colui che, avendo compreso la propria situazione e compreso lo scopo della vita, coglie l'opportunità, quella perla chiamata guru, affinché lo istruisca sul come affrancarsi dalla sua ignoranza spirituale. Deve essere chiaro che l'ignoranza si colma con la conoscenza derivante dall'esperienza, non dalla mera informazione. Bene, la seconda parte termina qui. Spero vivamente vi sia stata utile per chiarire, ripassare alcuni punti base del cammino spirituale. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale Telegram Sri Satya Sai Guru sia per commentare questo podcast che per arricchire la tematica e condividere le vostre opinioni. Trovate il link in descrizione.